Napoli. 15 fatti che non sai. 1. Napoli è una delle città più antiche d'Europa, fondata circa 3.000 anni fa dai greci col nome Neapolis che vuol dire nuova città. 2. Napoli è conosciuta in tutto il mondo anche per aver dato origine alla pizza Margherita, in onore della regina Margherita di Savoia. La pizza rappresenta i colori della bandiera italiana. 3. Napoli è la terza città più grande d'Italia per popolazione, dopo Roma e Milano. 4. I vicoli stretti e tortuosi di Napoli formano un labirinto urbano chiamato Spaccanapoli, che divide la città in due parti. 5. Napoli è la seconda città al mondo con il maggior numero di chiese. 6. Napoli ospita in tutto sette castelli, Castel Capuano, Castel dell'Ovo, Castel Nuovo, Castel Sant'Elmo, Castello del Carmine, Castello di Nisida e il Forte di Villena. 7. La leggenda narra che sotto il Castel dell'Ovo ci sia sepolto un uovo. Se l'uovo fosse stato trovato o se si fosse rotto, tutto il castello sarebbe sprofondato in mare ed una serie di sventure avrebbe colpito la città di Napoli. 8. Napoli è la patria del famoso teatro di San Carlo, il teatro d'opera più antico al mondo ancora attivo, inaugurato nel 1737. 9. Napoli è conosciuta anche per i suoi presepi napoletani artigianali, che rappresentano le scene della natività con figure vestite in abiti tradizionali del XVIII secolo. 10. I decumani di Napoli sono tre strade romane storiche falciate tra loro che costituiscono i cuori pulsante del centro storico. 11. Il Vesuvio, il famoso vulcano ancora attivo vicino Napoli, è uno dei luoghi emblematici della città ed è anche l'unico vulcano sulla terraferma europea ad essere entrato in eruzione negli ultimi cento anni. 12. Le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso sono due antichi cimiteri sotterranei di Napoli che risalgono all'epoca romana e paleocristiana. 13. Piazza del Plebiscito è la piazza più grande di Napoli e ospita la Basilica di San Francesco di Paola e il Palazzo Reale di Napoli. 14. Il Cristo Velato, un'opera d'arte scolpita da Giuseppe San Martino, si trova nella Cappella San Severo di Napoli ed è considerata una delle sculture in marmo più importanti del XVIII secolo. 15. Gli scavi di Oplontis vicino Napoli sono una testimonianza archeologica della vita quotidiana romana e includono una villa appartenuta a Poppea Sabina, la seconda moglie dell'imperatore Nerone.